Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa di oggi, giovedì 19 maggio 2022. Vi ricordo l'appuntamento oggi alle 12.55 con una puntata speciale della Compagnia della Live per stare insieme e per scambiarci così le sensazioni, i pareri a tre giorni dall'ultimo turno di campionato per il Milan e per l'Inter, naturalmente e per tutte le altre, ma a noi interessa la lotta a scudetto. Ma oggi partiamo invece col calcio giocato, come facciamo sempre qui, è una nostra buona abitudine. Ieri sera si è giocata la finale di Europa League, una finale che si è protratta fino ai calci di rigore e che ha visto la vittoria dell'Eintracht di Francoforte, trionfo dell'Eintracht, Europa League ai rigori. Questo è il titolo del Corriere dello Sport, che è l'unico giornale che dà un po' di rilevanza a questa notizia. Abbattuti Glasgow di Rangers per 6-5, al termine della partita sicuramente non dall'altissimo contenuto tecnico, però molto combattuta e viva che si era conclusa nei tempi regolamentari sull'1-1 vantaggio Rangers e poi pareggio dell'Eintracht di Francoforte, che dunque dopo quattro decenni praticamente torna a vincere un torneo continentale, alza l'Europa League e va anche ai gironi di Champions League direttamente. Quindi complimenti all'Eintracht di Francoforte. Veniamo invece alle cosette di casa nostra. Tralasciando il discorso Pogba, sempre più convinto su pole, arriva bene, era fredda la pista laziale. Ieri avevamo visto come la Juventus era praticamente in pole position per l'acquisto di Milinkovic Savic, poi evidentemente è partita una telefonata, hanno chiesto il prezzo e oggi il risultato è che Milinkovic costa troppo e dell'Ict può allungare il contratto naturalmente. In alto con Pioli e Inzaghi lo scudetto mai visto. Anche la sfida dei debuttanti esalta l'ultimo atto. Il tecnico del Milan ancora senza titoli ha 56 anni, quello dell'Inter ha provato la soddisfazione di alzare Coppa e Supercoppa italiana. La domenica bollente di Giancarlo Dotto, l'editoriale, in quello che sarà un ultimo turno molto molto interessante, molto molto importante e che assegnerà lo scudetto. A destra vedete Murigno, a Tirana, la mia finale più importante. Ieri insomma le parole motivazionali del tecnico portoghese che dice lo special carica i giallorossi e dall'ok per Maxime Lopez, il centrocampista del Sassuolo, obiettivo di mercato della Roma. Roma che tra sei giorni giocherà la finale. A proposito di mercato, tralasciando il discorso Juve che capiremo nelle prossime settimane, Marcos Antonio regista per Sarri, questo probabilmente l'acquisto della Lazio, mentre De Laurentiis dice mi tengo in ghissà, in un mercato che ieri ha fatto registrare alcune voci su possibili giravolte di difensori, perché si parla di un Romagnoli che starebbe chiudendo il suo passaggio alla Lazio, la Lazio però contestualmente avrebbe ceduto a Cerbi al Juventus in cambio di Rugani. Queste sono le notizie uscite ieri, poi vedremo naturalmente quando arriveranno le ufficialità. Veniamo al quotidiano sportivo, perché ci sono due notizie molto interessanti. La prima è quella a sinistra, calcio negli Stati Uniti, parità salariale tra uomini e donne, ce l'accordo ed è una grande notizia e mi auguro soprattutto che possa essere l'inizio di una battaglia, questa sì seria ed importante, non come tante che si fanno così per altri fini propagandistici, ma questo è importante perché il discorso parità salariale dovrebbe essere al centro del dibattito, vista le differenze che ci sono, almeno qui da noi in Italia sicuramente, poi in Europa non lo so, ma in Italia è un grosso problema e quindi quest'anno è veramente una bella notizia dell'accordo negli Stati Uniti e appunto la speranza che possa essere un appiglio per discutere anche qui a tutti i livelli. Non sto parlando naturalmente solo del calcio, sto parlando di tutte le professioni dove c'è ancora una forte discriminazione tra le retribuzioni agli uomini e le retribuzioni alle donne. Al centro poi volata di testa per la storia, Alberto Zaccheroni parla, dice che Milano ha favorito sull'Inter, ha motivazioni extra. Sul canale YouTube di Carlo Pellegatti intervista Alberto Zaccheroni che dice che il Milan è l'unica squadra in Europa che gioca così, è una squadra che va molto centralmente, che ha abbandonato le fasce e questo è uno spunto molto interessante del quale parleremo magari nei prossimi giorni. Insomma, intervista molto 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 simpatica anche e molto piena e molto ricca di contenuti, quella di Alberto Zaccheroni. Andiamo a Tutto Sport, oggi lascio la gazzetta per ultima. Cos'impara? Pogba veste Juve, vedete la foto, mettono sempre delle foto con queste strane espressioni di Pogba poco convinte. Comunque vabbè. E a destra invece Di Bala, casa Inter. Il francese è sempre più convinto del ritorno a Torino, messaggi bianconeri, via social e segnali incoraggianti dalla missione a Londra di Cherubini. L'argentino ha acquistato un immobile a Milano proprio a due passi dalla sede nera azzurra. Mai all'Inter pronunciato a quel tifoso, se è vera, naturalmente la cosa, ricorda un po' torno e sistemo tutto. Ma insomma sono i casi della vita, della vita milanese. Claudio Sala intervista al centro, il grande ex bandiera, capitano dell'ultimo scudetto del Torino, dice Belotti il fila per un toro vero, gallo qui al centro del progetto, difficile lo sia altrove, e poi che bello il Fira Delfia riaperto. Se vi interessa oggi a Torino si apre la fira del libro e potete trovare Dujan Vlaovic che parla e presenta il libro dedicato proprio da Tutto Sport. Milan-Inter, amicizie e affari. Gli intrecci scudetto col sassuolo, volata tricolore, quante storie in Emilia, fratifo, alleanze, calcio-mercato e altri insomma qua 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 qua. Eccoci qua, questa è la mia pagina di Tutto Sport. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport parla del Milan, parla di Leao. Con Milan campione, quotazione alle stelle. Leao vale 100 milioni, goal e assist, è uno dei trascinatori di Pioli. Valore quadruplicato, rinnovo pronto e la filosofia rossonera ispira lo United. Perché? Perché ieri c'è stato un articolo apparso su un noto sito di supporters e di analisi del Manchester United dove si fa riferimento proprio al Milan, dove si parla di come il lavoro di Pioli abbia valorizzato i giocatori e di come Tenag, che sarà il prossimo allenatore dello United, dovrà fare altrettanto, cioè dovrà cercare di creare un gruppo che giochi, che sia compatto e che abbia poi anche dei giovani da inserire e da valorizzare eccetera. Quindi stiamo diventando un modello anche da un punto di vista sportivo e non solo, magari da un punto di vista finanziario, che ci piaceva un po' meno, invece questa cosa sportiva ci piace molto di più. O intanto, ieri una tappa del Giro d'Italia che doveva essere come si dice di trasferimento, invece si è rivelata più interessante del previsto. Dainese vince il Giro d'Italia, l'Italia sedesta, Reggio Emilia sprint con sorpresa. Altra tappa molto interessante oggi da Parma a Genova, molto molto interessante. A destra il patto di Inzaghi, grigliata e carica, Simona all'Inter non è ancora finita. Anche questa foto di Inzaghi, sembra che dica non è ancora finita, crediamoci, no? Questa buffa espressione. Brizzi e la via Emilia, romanzo da Scudetto, scrittori tecnici della città del tricolore, insomma, tante interviste all'interno, il tifo ragione per ragione, maggioranza nerazzura, non avevamo dubbi a riguardo. Bene, veniamo invece alla parte bassa, se vedete qui in basso a sinistra, se avete una lente di ingrandimento e acquisterete la Gazzetta dello Sport, potrete trovare la notizia dell'Eintracht di Francoforte che vince l'Europa League. Ramsey sbaglia ai rigori, l'Eintracht batte i Rangers e alza l'Europa League. Decisivo l'errore dal dischetto del gallese di proprietà della Juventus. Esperienza davvero sfortunata per lui, per non dire altro, a Glasgow. E quindi sono dette qui in basso a sinistra, piccolo piccolo, ma c'è anche del calcio giocato. Mu e la Roma per sempre, la finale più importante. Posso restare oltre due anni e poi al centro vedete Juve, anche Giorginio. Quindi giocheranno con sette giocatori a centrocampo, quelli della Juve, visto che hanno già Arthur, Locatelli, Rabiot, Mininkovic-Savic, Pogba e adesso anche Giorginio. Ma insomma, Blizza a Londra, il regista azzurro può arrivare insieme con Pogba. Tanti nomi, tante storie, poi vedremo quali saranno le definitive conclusioni di mercato per i bianconeri e anche per tutte le altre. Io vi auguro la buona giornata, vi do appuntamento alle 12.55 con la compagnia della Live.